E' eccezionale. Abdull, eccezionale, Abdull, vale, tutto è nostro, Abdull tra l'altro, lo ha asfaltato, bello il corso, sta per entrare in campo, il genovese è qui, grande, grande, Abdull che parte. Abdull, andiamo così, andiamo così. Giarre ha sempre, quasi sempre, provata la conclusione da 3, con percentuali però veramente disastrosi, Abdull, grande giocante. Abdull, bravissimo, brava, bella, bella azione. E' il show, c'è tempo, dobbiamo prenderci. Segna, Abdull, per 3. Dentro per a pomada, palla fuori per a pizze, va dentro, tira a pizze. Segna a pizze. Bella finale. Aronne a pizze, a pizze segna. Mauro Pacchetta. Mauro per Abdull, Abdull che aiuta colpa del loro. Damiano per a pizze, sotto il canestro da pizze. E' benissimo la nostra difesa qua. Sì, sì, sì. Andiamo, Abdull. Sì, Zanzone, mette la tripla nel più uno, forse. Abdull, mette dentro perché riescono a costruirsi il tiro aperto, ma non entra il dobbiamo ripartire veloci in transizione. Damiano da 3. Damiano da 3. Damiano da 3. Damiano da 3. Occhio ai blocchi. Le parti perdono palla. Andiamo, Canezone. Dobbiamo approfittarne ora di questa fase di partita perché loro sono in difficoltà. Altro tiro da 3. Che non va. Abdull. C'è. Due punti di... Grande a te. Grande a te. Grande a te. Oh, c'è. Oh, c'è.